Buongiorno a tutti e benvenuti ancora qua con un incredibile Patti Tozza! Fortunatamente lo stronzo dello scorso episodio di settimana scorsa è uscito, quindi mi sono preso ancora a mira. Siamo ancora in stanza con Super Snake da Metal Gear e da un membro della famiglia non di Wyatt ma di Lara Croft. E' un teletro semibetti che proviene da GTA San Andreas e io sono il primo che ci c'è fuori perfetto. Perché mi volete espellere? Ma non è che perché ho le cuffie e parlo? La madonna, ma perché mi vogliono espellere? Non è che mi sentono perché, no, tanto sto ridistando, ho attaccato, ho attaccato le cuffie al coso, vabbè. Siete delle persone cattive, ecco, lo dico, l'ho detto, siete degli stronzi. Qua barichiamo tutto, di qua e spacchiamo anche i dischi di platino di Little Tony. Perfetto, mettiamo qua il cosino. Spero che i miei amici abbiano messo il barichetto dietro. Perfetto, un'altra qua, buon uomo. Però se magari chiudiamo anche qua. E' sicuro me la spazzano, eh. Ma non me ne frega un cazzo che mi hanno visto. Eccolo là, bam. Su di una cosa non ci sta, quindi ne servono per forza due. Qua c'è più... Sei pacso? Sei pacso? Vabbè. Ma non è che si devono fare le skill? Vabbè. La gente è matta. Ma chi fa questo? Perché? Ah, ok. Io ti chiudo fuori però, amico. Non voglio avere a che fare con degli imprevisti. Ma ci sono delle barricate sopra, vediamo un po'. No, mi sai no. Perfetto. Ok, no. Io metto il cosino qua. Per non saper né leggere né scrivere. Eccone uno. L'ho visto. Faccio la cagata. Ah, stronzo. Vai. Mamma mia, quanto sbarello questo Vector. E' lì, è lì. Uh, l'ho preso e l'ho ucciso, mi sa, eh. Non vorrei dire che l'ho... Cavolate ma l'ho ucciso. Eh sì che l'ho ucciso. Sì sì, l'ho fatto anche l'headshot. Però ci stanno sfondando l'anima. Comunque. Eh, sì 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 sì. No, due contro due. Uno è qua fuori. Perché è qua fuori? Perché? Di, ditemelo. Ma è il Capitao. È il Capitao. Sì 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 sì. Continui, continui. Aia. No. Non lo facci. Lo uccida. L'ultimo nemico nemico. Grande mago. L'altro, però mi dispiace amici, però non lo vedo. Eh, se non lo vedo, non lo vedo, eh. C'è il Termitario. Andiamo qua un po' il Caveira che fa. Perché Termitario dovrebbe andare in posizioni per buttare giù le cose. L'ha visto? No amico, non si vede niente. Ci sono qua io, ma... Ok, ok, fermo. Può anche darsi, perché non si è ancora visto. Magari ha respawn. Dov'è? Amico, amico buffo. E non si vede. Che vuole lei? Stia, zitto. Ah, paura. Dove c'è il Termite? Eccolo dove era il Termite. Con quale mira? Putta, ma... Non si può essere più... Vabbè. Io faccio... Sì sì, ma... Io non voto perché non sono uno stronzo, però... Porca puttana. Gli ha fatto la mira... Gli ha fatto la sagoma... Ah, era qua. Ah! Paura! Dov'è? È detto che... Ste cazzo di... Telecamera ha messo proprio benissimo. Oh, grande Super Snake! Se non c'è il Super Snake qua che butta giù i nemici. Con quale sangue freddo, vedete, vedete? Fa la cavolata e patapam! Secondo round. Trovate il contenitore di Biorischio. Eccoci qua. Ho preso Glaz, o come cacchio si chiama. Ho lasciato ai nostri amici Jekyll. Adesso però, mi piacerebbe anche vedere la postazione del Biorisico, magari un'altra postazione. E non sempre in quel... Oh! Come si fa ad andare su? Questa mappa che puttana aveva tutti con le cuffie. Questa mappa che... Porca miseria quanto può essere mappa. Ah, quella qua... Ah, qui! Amici! Saltate! Quanto salto sul posto, ecco. Ah, sono qua. Perfetto. Ma io prendo tempo e faccio così! Un cazzo! Ah, ok. Ho preso il mio personaggio d'attacco preferito, ovvero... Oih! Sibaz! Mio personaggio d'attacco preferito, il... Laz! Quello col cecchino, ecco. Io seguo Super Snake, che è il più super... Oih! Che è il più Super Snake dei tutti, proprio. Vada, vada. Io posso andare avanti ancora di più, sì! Che c'è il sentierino bello. Mmm... La sicurezza, però, è più in alto. Quindi che cazzo ha sparato quello là? Oih! Calmi, ne? Il drone è pronto. No! Dove, dove? Eccola. Ovviamente non c'ho né... La tua posizione è sti cazzo. Ah, perché c'è cavera, ma vaffanculo. Ovviamente non ho nessuna tipologia di... Ah! Nessuna tipologia di A! Da dove? Da là? Da tanto in fondo? O da là sopra? Mmm... Ah, hanno aperto la... Ma è un nemico quello? Sto cazzo che è un nemico! Dove? Ma hanno tipo sparato tantissimo. Ho sentito la botta fino a ieri sera. Ma fuori non c'è nessuno, perché sennò li segnalano. Quindi andiamo molto piano. Però con tanta paura, tantissima paura. Anche perché siamo ancora in tre. Ma lì c'è il capcano. Ma lì c'è anche il vetro. Io non ce la faccio. Oh. Spacca. Ho fatto una cosa bruttissima, perché sono... Ah, ma sono lì. Ah. La puttana! Sto sch... Ma ha tirato qualcosa? Mi ha tirato una... Ha tirato un'intro di serina, perché ho subito una botta in... Che cazzo? Ah! C'era l'eco! Ma vaffanculo! Vuoi Super Snake? Sei tutti noi? Ah, ma è finita qua la cosa. Vabbè. Mette in sicurezza! Mamma mia, Super Snake, meraviglioso. Da lì, da lì, da lì, da lì. Mamma mia! Super Snake! È lui! No, però, la porca puttana. Grande prova comunque ancora di Super Snake, direttamente da Metal Gear. E non dalla parodia un po' zozza. Eh, vabbè, siamo uno a uno. Difendete la stanza. Dobbiamo proteggere... Dove siamo? C'è qualche botola? No. Perfetto. Dove si possono barricare le cose? Io barrico anche qua. Eh. Magari si può mettere anche... Oh! Perché? No, no. Dimmi che è entrato figlio di puttana. No, no. Ti prego, ti prego. Perché mi ha ucciso? No, vabbè, ma dai. Votiamo subito per buttare fuori. Non posso. Perché non posso? No, ma vabbè, vabbè. Questi figli di puttana che entrano solo per rompere i coglioni bastardi. Pezzi di merda. Magari solo perché gli ho rubato il personaggio, né? Ma sicuro. Sti cornuti. Eh, vabbè. Stavo facendo una bella partita che c'è il super... Eccolo là in fondo. Non ce l'ho fatto in tempo. Topo, subito. Scelta personaggio. Come si chiama il coglione? Ah, è già uscito. Perfetto. Cioè, è entrato soltanto per rompere il cazzo. Perfetto. Queste bellissime persone che spendono 70 euro per prendere un gioco per fare i coglioni. Ma mi sembra più che giusto. Dov'è l'altro? Ah, ok. Sta andando su. Perfetto. Un po' qua, almeno la situazione. Stia zitto, marcaio. Mark Mai. Io continuo a... L'opera... Ah, finalmente ce l'hanno fatta, ecco. Ne ho visto un altro? Dove è la gente che fa parti? Eccolo! Non ce l'ho fatta. Ce lo faccio per un pelo, sì. C'è molti... Li sto beccando tutti. C'è un montagna. C'è un ibana. Giustamente i coglioni che mettono in sottofondo gli spacchettamenti di qualche deficiente. Molto bene. Quanta bella gente che c'è qua su Rainbow Six. Ma va che t'ho visto, eh. Volevi, eh. I grandi avvistamenti. Oh, ma... Stia fermo lì. Ah, si faccia... Si faccia rivelare. Lì era... Il nemico sta prendendo il contenitore. Vado al contenitore, scemi betti. Oddio. Vai! È lì, è lì, è lì. No! Mamma mia, per fortuna... Per fortuna che arriva la mira di Ray Charles, quello là, porca miseria. Mamma mia. Se... Se è fermato lì, ho che avrà dei problemi di... Di non lo so. Vabbè. Match point! Trovate il contenitore di biorischio. Troviamolo. Cadiamo qua nei pertugi. Con i possi... Ma che storia? Mi sono bloccato su... Sulle insegne. Ma spettacolo. Hanno già trovato? No. Possibile match point. Con questa partita. Speriamo che... Oh, bravo Bone Breaker. Già mi sta simpatico che non è uno stronzo come quello là. Cristo. Ma io dico, ma perché spendete soldi? Se poi quando entrate in partita dovete fare i deficienti. Cioè, siete anche dei cretini, no? Abbastanza. Ah, ok. Sono in questo punto. Non c'è nessuno che ha il nuovo personaggio. Quindi andiamo avanti. Tanto sono anche tutti... La festa si sente celonelle vene. La voglia di ballare, ecco. Perché sia mai... Oh, zecca vera in giro. E ciò non va bene. Tanto... Puttana, butta il giusto coso. Tanto... Tanto, zecca vera. Tanto zecca vera. Tanto serve apposta perché così si vedono i passi della signorina che non mi ricordo il nome della signorina che aveva. Sperando di non beccare però il... Cavolo di gemmer. Perché il gemmer rompe le balle al zecca. Ah, lì non posso. Ohi! Alla, ombre! È il puttaneros. Ohi! Posso vedere? Vediamo se si vedono. Non si vedono. Perfetto. Molta attenzione perché c'è il zackal. Infatti poi qua butto giù io qua. Ok. Ok, non c'è il zackal. Ma qua c'è una telenovela. Aiuto! Da... Da sopra. La mierda del puttaneros. Che cazzo di telenovela guardano questi qua? Ah, è lei. Mi fa prendere gli sciopausi. Venga, venga. Magari qua c'è qualche pezzo di botola. Però volendo io posso fare una cosa del genere. Vada! Siete pronti? Io sì. Boom! Anche perché sono qua sotto quindi... Io ce ne appizzico un'altra qua. Dato che ci siamo... Are you ready? Boom! Eccolo! E' lì, è lì, è lì. Ma andando che ci siamo? Per non saperne leggere e scrivere. Se non mi ammazzano... Eccolo! No! Ho fatto la cazzata! Sono lì sotto però. C'è il cappecano. Giustamente qua. Oh, ce la facciamo vedere. No, nessuno. Cazzo. Sono dentro. Ancora sta telenovela. Vabbè. Attenzione, bombbreaker! Mi sa che è uscito, eh. Mi sa che ti fa cucù. Bombbreaker, c'è là dietro. E le fa cucù. Quanto mi ha saltato. Eccolo, eccolo. Grande mago. È lì dietro. Non puoi da passare. Che fa? Lì a sinistra. Bravissimo. Ok. No, no, no. La sega. E infatti, porca miseria. Siamo su 2-2. Ho fatto la cagata io, altrimenti potevamo anche vincere. Perché li vedevo. E si va al match finale. Barricchiamo tutto. Questa tra l'altro era anche la stanza dove c'è stato il mio assassino. Ma... Io vorrei sapere una cosa. Ma dietro c'è qualcosa qua. Vediamo un po' che cosa si vede. Ok. Intanto piazziamo anche questa. Intanto ci siamo. Però Capcan dovrebbe mettere le trappole, permesso. Ah, sono io, Capcan! Fermi! I am cretino! Che dove deve aver preso la mira, invece no. Smonta, smonta, smonta. BOOM! Anche qua. Bene. Ok. Mettiamo uno qua. Mettiamo uno qua. e piazziamo la bella trappolozza. Arrivo! Vengo! Quanti spari? Ah, ma si può qua? Ma non potevo io? Cioè, non ce l'avevo fatta un'altra... Qua, 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 qua. E volevi! Rimette la barricata. Vado, 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 vado. Metto, 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 metto. Il grande barricamento. E' un deficiente. Permesso. Sono sopra, eh. La grande paura. Sono sopra. Per fortuna che hanno ammazzato Fuse. Mi sento un po' costipato qua, senza... E' sopra, perfetto. Quindi... Si cala dall'alto. Si cali, si cali. Ho sentito il rampino. L'ho sentito col mio culo, proprio. Dov'è? Aha! Da dietro, signore! Da qua, da qua, da qua! Da qua! Guardi lì, guardi lì, guardi lì! Ma dov'è quello? Perché sono sopra, li sento sopra. Ripeto, per fortuna che abbiamo ammazzato Fuse. Ok, io mi muovo qua. La paura! La stupidata! Ok. Allora? A che vogliamo fare? Uh! Lì! Lì, 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 lì! Oh! Eh, caro mio, ha già fatto la cagata, ha già fatto. Non si fotte con me. Porca puttana! Ma devo venerli a guardarmi! Non posso! Ah! Paura! Ecco! Imbecille! Allora, vediamo, se ce la faccio a beccarli. È lì, è lì, è lì! Spa! Spa! L'ha ammazzato? L'ha ammazzato, non si sa. Quello guarda... È lì, è lì, è lì! Bravissimo! Che l'ha visto! Dietro al coso... Quanti spari a caso? E niente, mi sembra che è andata così la partita, con una sconfitta. Era dentro! E vabbè, se quello là non si spostava... E niente, spero che comunque questo episodio vi sia piaciuto. Abbiamo trovato una partita anche sulla mappa nuova. E ci vediamo alla prossima, con una nuova partita su Rainbow Six. Giusto, sconfitta e ingiusta. Ciao!